... Firme e menzogne e accuse ridicole, Sina sprisce lo scontro politico e mediatico dopo l'intervento di Frattura in Consiglio che torna ad attaccare Telemolise. Grottesco il richiamo allo stalking, commenta il direttore Emanuela Petescia. Schiacciato dal trattore muore un 45enne, Massimo Tullo ha perso la vita in contrada Feudo alla periferia di Campobasso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è rimasto sotto, vani i soccorsi. In corte d'assise l'omicidio di Campodipietra è cominciato il processo ad Antonio D'Aporta, ha uccise il fratello Vincenzo con un colpo di pistola dopo un litigio a causa di un terreno. Nevicata di Capracotta sui network mondiali, le immagini della neve che ha superato i due metri e mezzo fanno il giro del pianeta e il sindaco Monaco propone il gemellaggio alla città battuta che deteneva il record. I Serni ha più 11 a 6 giornate dalla fine, in eccellenza i biancocelesti travolgono il vasto Girardi e ipotecano la promozione in serie D, in promozione vincono Toro e Vinchiaturo. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Come avete appena sentito nel sommario si fa sempre più aspro lo scontro mediatico e politico dopo che il governatore Frattura in Consiglio regionale nell'ultima seduta è tornato a parlare di Telemolisi e ad accusare la TV di diffondere notizie false, spingendosi addirittura a paragonare l'atteggiamento, la nostra informazione allo stalking a mezzo stampa di Ciarrapico. Un richiamo grottesco, l'ha definito il direttore di Telemolisi Emanuela Petescia nel suo commento che ascoltiamo. Paolo Di Laura Frattura è al governo da due anni e il fallimento è così evidente da far crollare sotto il peso della menzogna eretta a sistema persino l'alibi della gravosa situazione ereditata. È colpa di Iorio, non funziona più. E allora il presidente ne sta cercando un altro di alibi, quello della stampa nemica. Mi coprono di fango, va ripetendo stancamente, le notizie non sono vere. Insomma, quello che le telecamere hanno documentato e documentano tutti i giorni, prove e carte alla mano, e cioè la disperazione della gente, l'assenza di prospettive, il menefreghismo, la commistione di interessi, la politica affaristica spacciata per nuovo modello di sviluppo territoriale e le biomasse o la metropolitana leggera sono soltanto un pallidissimo esempio. Tutto questo altro non sarebbe che fango, persecuzione e stalking di una certa stampa, cioè telemolise. Bene, noi crediamo invece che lo stalking al molise lo stia facendo lui, ed è uno stalking di menzogne. Ve ne proviamo ad elencare qualcuna di queste menzogne, avvertendo sin da ora l'ordine nazionale dei giornalisti che il presidente della regione o è in grado di indicare come, quando e perché una certa stampa diffonderebbe notizie false o sarà la certa stampa a denunciarlo in tutte le sedi opportune, avvalendosi degli organi di sostegno e di controllo della categoria professionale. E questo tragico e documentabile elenco di menzogne è superato soltanto da un altro tragico e documentabile elenco di menzogne, le sue giustificazioni. Il tormentone dei non è vero, non l'ho mai detto, sono stato frainteso, io quando mai. E sono proprio queste folli giustificazioni, queste scuse puerili a dare la misura della sua debolezza e della sua mancanza di statura politica. Debolezza, mancanza di statura politica e irresponsabilità è uscirsene con la frase «Scusate, ho firmato senza leggere» per giustificare il contratto che lo impegnava alla salvezza del Santissimo Rosario di Venafro siglato in Pompamagna al solo scopo di garantirsi una valanga di voti. Mancanza di statura politica e perfino di un certo senso del pudore è garantire ad Agnone il 23 settembre del 2013 la sopravvivenza del Francesco Caracciolo per poi dichiarare in TV con incommensurabile faccia tosta «Io quando mai». Debolezza e mancanza di statura politica è assegnare 60 posti letto al centro pavone del gruppo Neuromed a novembre per poi battere in ritirata annunciandone precipitosamente la revoca a dicembre e per poi dire «Io quando mai». Paolo Di Laura Frattura nel programma scopiettante del Molise di Tutti garantiva la fine delle consulenze faraoniche e dei consigli di amministrazione inutili per poi nominare il 4 gennaio del 2014 il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione dell'autostrada del Molise. Quota Italia dei Valori, pagato con i soldi pubblici per non fare nulla «Io quando mai». Paolo Di Laura Frattura aveva promesso la rivoluzione copernicana del merito e della competenza per poi procedere al nomine perfettamente politiche, all'ESU, a Molise Sviluppo, alle vecchie comunità montane da perfetto distributore di poltrone. Questo presidente aveva sbandierato il dimezzamento delle indennità per poi tentare un minuto dopo con il sostegno della sua maggioranza e senza sprezzo del ridicolo persino di aumentarle. Paolo Di Laura Frattura aveva dichiarato l'intenzione di accorpare tutti i servizi regionali a Selva Piana per poi dirottare il concorso di idee sull'area dell'ex Romagnoli o quando mai, forse con il solito obiettivo del solito svincolo al servizio delle solite torri. E dopo aver annunciato il varo del piano energetico regionale, non solo non lo presentava, ma inaugurava in compenso l'era delle autorizzazioni a pioggia, centrali a biomasse, paleoliche, parchi fotovoltaici e megaimpianti di trattamento dei rifiuti, altrimenti detti inceneritori, io quando mai. Ma il fiore all'occhiello delle menzogne deve ancora arrivare. Il 3 dicembre del 2013, Paolo Di Laura Frattura dichiarava di avere in tasca, addirittura pronto per l'uso, il piano industriale di rilancio della GAM, una specie di progetto pilota da fare invidia al mondo e tale da seppellire nel ridicolo chi in qualche modo era riuscito a tenere in piedi quell'azienda. Ma dal ridicolo è rimasto coperto lui. Dal ridicolo e dalla risata amara degli operai e delle loro famiglie condannate alla fame, visto che il fantomatico piano di rilancio di quell'azienda consisteva nel chiuderla. E la chiusura della GAM è stato il fallimento politico, economico e strategico più grande che la storia di questa regione potesse meritare. A pari merito forse, e forse a breve, con la chiusura dell'ospedale di Agnone. Io quando mai. Chiamato in causa, registriamo la presa di posizione di Vincenzo Cimino, il consigliere nazionale dell'ordine dei giornalisti. Non posso far altro, ha detto, che schierarmi a tutela della protezione dei colleghi garantendo l'intervento possibile all'ordine nazionale. Ma la macchina del fango ha aggiunto Cimino della cattiva informazione, se non della delegittimazione che il presidente della regione evidenzia, mi fa pensare che mai con Veneziale, Distasi, Massa, Chieffo, a volte drammaticamente sottotiro dell'informazione, ci furono frasi e commenti così poco opportuni. A proposito della legge dell'editoria, infine Cimino ha detto, non vorrei essere portato a pensare che il non fare di frattura sia una strategia studiata per togliere di mezzo una stampa già alla canna del gas, come dire, con la scusa della crisi, il cordone della borsa è stretto e si salvi chi può. E a proposito di salvataggi, parliamo della situazione dei precari, sentiamo Giovanni Minicozzi. All'indomani della seduta monotematica del Consiglio regionale sul lavoro restano solo le polemiche e niente più. La delusione dei lavoratori in difficoltà, dei tanti precari e dei cassi integrati che hanno circondato Palazzo Moffa è del tutto evidente. Ancora una volta la politica e in particolare la maggioranza e il governo regionale hanno dimostrato la totale incapacità a risolvere i problemi. In sostanza si è perso altro tempo rinviando ogni decisione alla prima e alla seconda commissione di Palazzo Moffa che dovrebbero stabilire un cronoprogramma per dare risposte ai tanti lavoratori a rischio. Intanto però le situazioni si complicano di ora in ora. Il caso dello zuccherificio di Termoli è emblematico. Paolo Frattura ha attaccato a testa bassa l'imprenditore Diego Volpe Pasini ma i lavoratori lo difendono. I problemi li abbiamo sollevati da quando era tempo, che era il mese di ottobre, che chiedevamo di seminare, chiedevamo di andare avanti. Ad oggi non abbiamo un ettaro di barbabietro e come diciamo tutti. Non c'è la volontà di seminare e quindi la volontà di andare avanti. Volpe Pasini ha denunciato il fatto in una comunicazione fatta a voi dipendenti che qualcuno cerca di ostacolarlo. Volpe Pasini è venuto come privato con un progetto, il progetto di fare zucchero, di fare anche altro. Da quello che vediamo noi non è stato accompagnato da nessuno, anzi vediamo un ostacolo a differenza di un aiuto. Chiedevamo un aiuto anche da parte della politica per quello che poteva essere tavoli di filiera, tavoli di promozione per le semine, non per altro. Non si chiedono soldi ma si chiede un aiuto, non un discorso fatto di chiusura totale. E la politica? La politica ha un piano B, il piano B che a noi non piace, noi non intendiamo stare in cassa integrazione, non intendiamo essere pagati dalla società ma intendiamo lavorare e portare avanti una dignità e un reddito. Non è da meno l'avvertenza dei precari della protezione civile. Soluzione in altissimo mare. Il 31 marzo scadranno i contratti per gli 84 lavoratori e lavoratrici dell'Agenzia regionale di protezione civile ricontrattualizzati il 2 gennaio scorso. Per ora non si prospetta alcuna soluzione. La CGL ha sollecitato il governatore Frattura a riaprire immediatamente il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori perché di tutto c'era bisogno tranne che di un'elemosina. Noi l'elemosina non serve, noi meritiamo dignità e sulla nostra avvertenza va fatta chiarezza. Ancora un fronte caldo, quello della sanità se ne parla naturalmente anche in Basso Molise. Sentiamo Manuela Iorio. Il tempo stringe il decreto Balduzzi potrebbe diventare legge con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Per il Molise significherebbe ospedali ridimensionati e reparti cancellati. A subire una forte penalizzazione sarebbe il Basso Molise e soprattutto il Santimoteo con la chiusura di ginecologia, urologia, otorino e pediatria che significherebbe per l'ospedale un salto nel passato di 50 anni. Una situazione insomma drammatica che secondo il consigliere di minoranza al Comune di Termoli ed esponente di azione civica Molise Michele Marone ha precise responsabilità in capo al Presidente Frattura che aveva il dovere di difendere il territorio e di garantire la salute ai molisani e invece li ha abbandonati, ha dichiarato. Il riferimento è a tutto l'iter del decreto durante il quale si potevano proporre deroghe come hanno fatto altre regioni ma soprattutto all'assenza del Molise nel fatidico 5 agosto del 2014 quando in conferenza Stato-Regioni il decreto è stato approvato. Assenza che in questo caso è stata equivalente a un voto favorevole, un'inerzia amministrativa che secondo Marone legittima i cittadini a chiedere le dimissioni del governo regionale. Intanto però è partita una raccolta firme che si sta portando avanti all'interno stesso del Santimoteo per chiedere direttamente al Ministro della Salute una deroga per il Molise. Ora si tratta di andare con il cappello in mano, bisogna andare con il cappello in mano al fine di garantire il diritto alla salute dei molisani perché purtroppo con gli standard fissati nel decreto Balduzzi che prevedono la possibilità, l'esistenza di un ospedale con tutti i criteri, cosiddetto DEA di primo livello, è necessario un numero di 600.000 abitanti e chiaramente tutto il Molise non ce l'ha. Allora di fronte a questa situazione, così come hanno fatto altre regioni nell'iter procedimentale in sede di conferenza Stato-Regioni che sono giunti ed hanno ottenuto delle deroghe a questi parametri così stringenti, è necessario che anche il Molise li chieda. Purtroppo oggi il Molise si trova a chiedergli dopo che il decreto Balduzzi sostanzialmente ha ottenuto l'intesa da parte della conferenza Stato-Regioni. È necessario che adesso il popolo prenda in mano la situazione e direttamente vada a rivendicare il suo diritto alla salute che è garantito all'articolo 32 della Costituzione e nessuno glielo può negare. Anche a Campobasso questa mattina gli studenti si sono uniti alla manifestazione nazionale nella quale viene contestato il finanziamento alle scuole pubbliche da parte dei privati, gli apprendistati obbligatori senza fine didattico e i criteri di merito previsti nel piano scuola di Renzi. I ragazzi hanno dato vita a un corteo che ha attraversato alcune strade del centro della città poi si è concluso in piazza Vittorio Emanuele a cui si riferiscono le immagini. Manifestiamo, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa per proporre un'altra idea di scuola realmente partecipativa, pubblica, gratis e di qualità. Gli studenti del Molise da anni chiedono una nuova legge regionale sul diritto allo studio che preveda investimenti per un'edilizia sicura, agevolazioni per libri e trasporti, borse di studio in base al reddito. E ora la cronaca. Cominciamo con l'ennesimo incidente causato da un trattore. L'uomo che era alla guida del mezzo è rimasto schiacciato ed ha perso la vita. L'incidente è avvenuto alle porte di Campobasso. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il suo corpo è stato ritrovato molte ore dopo l'incidente. Massimo Tullo, 45, anni di Campobasso. È morto la scorsa notte schiacciato dal trattore che stava conducendo. L'incidente si è verificato nelle campagne tra Campodipietra e Campobasso. L'uomo era uscito col suo mezzo per liberare la strada dalla neve, come aveva fatto in passato decine e decine di volte, ma stavolta però qualcosa è andata storta. Dopo aver lavorato per alcune ore, Massimo Tullo aveva deciso di tornare a casa. Era sulla strada del ritorno, a pochi metri dalla propria abitazione, quando, secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe impattato contro un muretto. A causa dell'urto, l'uomo sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo a terra. Il trattore, dopo essersi ribaltato, gli è finito addosso, lo ha schiacciato, non lasciandogli scampo. I soccorsi sono stati allertati molte ore dopo. L'incidente si è verificato lungo una strada che non è molto trafficata, quindi nessuno ha visto il mezzo incidentato. L'allarme è stato dato dai familiari preoccupati, non vedendolo rientrare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia, ormai era troppo tardi. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale. L'uomo lascia una moglie e una figlia piccola. Questa mattina presto il mezzo è stato recuperato da una gru dei vigili del fuoco. Il trattore è stato caricato e portato via. La notizia della morte dell'uomo ha immediatamente fatto il giro del paese, lasciando increduli e addolorati gli abitanti di Campodipietra, dove la vittima viveva con la sua famiglia ed aveva una piccola azienda agricola. E a Campobasso invece è cominciato in corte d'assise il processo ad Antonio Laporta. Qualcuno ricorderà questa vicenda, accaduta a pochi chilometri di distanza da quel posto dove abbiamo visto il trattore poco fa. L'uomo uccise il fratello con un colpo di pistola al termine di un litigio. Sentiamo Tonino Danese. Otto i testimoni dell'accusa, la lista presentata dal pubblico, Ministero Nicola D'Angelo. Otto quelli di Carmine Verde, avvocato difensore di Antonio Laporta, l'uomo di 56 anni che il 25 maggio dell'anno scorso uccise il fratello Vincenzo, 64 anni, con un colpo di pistola detenuta illegalmente i fatti nelle campagne di Campodipietra. Al culmine di una lite per un terreno conteso è iniziato in corte d'assise il processo per l'uomo presente in aula accusato di omicidio volontario. C'erano anche i familiari della vittima che si sono costituiti parti civili, sette in tutto rappresentati dagli avvocati Angelo e Valentina Piunno e Fabio Albino. La corte preseduta dal giudice Ottavio Abbate ha respinto la richiesta dell'avvocato difensore verde di rito abbreviato. La corte si è riservata di decidere sugli effetti per la verità del giudizio abbreviato, quindi dovremo fare tutto il dibattimento davanti alla corte d'assise. La corte d'assise potrà ritenere immotivati il rigetto del GIP sulla richiesta che abbiamo fatto precedentemente di giudizio abbreviato e applicare comunque l'abbattimento del terzo della pena in caso di condanna. Poi la questione del consulente? È stata riconsegnata la perizia fatta fare dal pubblico ministero e poi verrà comunque sentito il pubblico ministero che potrà poi depositare successivamente la perizia. Chiaramente ci sarà anche il consulente tecnico della difesa che farà delle osservazioni particolari a quella del pubblico ministero, così per quanto riguarda la perizia medica legale sia per quanto riguarda poi le richieste che io farò successivamente su una perizia balistica che è quella più importante a mio giudizio per far capire un po' l'axio criminis, che cosa è successo. La difesa punta a dimostrare che non si è trattato di omicidio volontario. Nella prossima udienza fissata per il 26 marzo saranno sentiti testi dell'accusa, dunque il consulente del pubblico ministero chiesta l'escussione dell'imputato. Per le parti civili l'accusa di omicidio volontario è chiara. Mi sembra che i fatti siano chiari, nel senso che ci sono testimoni oculari che hanno avuto modo di vedere quello che è accaduto, quindi credo che su questo ci sarà ben poco da discutere sul fatto così come è avvenuto, oggettivo eccetera. Penso che molto importanti invece saranno le perizie e del pubblico ministero e delle parti civili e della difesa perché scenderanno un po' ovviamente sull'esame delle problematiche tecniche, cioè balistiche, ambientali eccetera. I familiari sono ancora basiti perché forse è una cosa che assolutamente non si aspettava nel val di là della loro anche immaginazione. Il caso della clinica di Montaquila, finiti gli arresti domiciliari, Franco Rossi è tornato a indossare la fascia di sindaco del paese e a parlare di questa indagine che lo ha coinvolto in prima persona. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Franco Rossi, sindaco di Montaquila, è tornato a indossare nuovamente la sua fascia tricolore con decreto del prefetto disegna alla sua sospensione causata dall'arresto per l'inchiesta su Villa Flora e cessata. Una grande soddisfazione per Rossi che coglie anche l'occasione di ringraziare chi l'ha sostituito. Sono stato degnamente sostituito dal vice sindaco e dall'aggiunta e dagli altri consiglieri, quindi credo che il Comune non abbia subito danni dalla mia assenza. Però, ripeto, c'è stata sempre questa mancanza di prospettive immediate che potessero rendere il mio impedimento meno grave. la preoccupazione era stata sempre quella, quella di non arricare danno alla pubblica amministrazione. Ma anche se è tornato in carica da sindaco, le ferite morali e professionali provocate a Rossi dall'inchiesta su Villa Flora restano aperte. Ho molta amarezza per tutto ciò che è successo, dall'altro molta gioia perché mi sono ritrovato tutta una popolazione intorno che mi ha sostenuto in questi mesi, che mi ha sorretto durante tutta questa triste esperienza. Perché, a dire la verità, sono rimasto sorpreso dal fatto che sono stato un mostro messo in prima pagina, cioè mi hanno trasformato in amministratore di fatto. Hanno creato un'associazione a delinguere, la quale l'associazione avrebbe poi messo in castigo dei giovani cerebropatici. E quindi, diciamo, la realtà è che è stato solo un atto d'amore, un atto di generosità da parte mia nell'aver accolto in quella struttura dei giovani cerebropatici oligofrenici con gravi turbe del comportamento. Chi ha subito danni a causa dell'interruzione di energia elettrica provocata dalla nevicata potrà essere risarcito. L'associazione dei consumatori del Molise sta preparando i documenti necessari a chiedere i rimborsi. In caso di mancato risarcimento, precisano dall'associazione, va presentata una domanda entro otto mesi dall'interruzione del servizio di energia elettrica. E a proposito di maltempo, sta facendo davvero il giro del mondo la notizia, ma è chiaramente le immagini della nevicata che c'è stata a Capracotta, due metri e mezzo di neve, dalla CNN alle televisioni croate al Washington Post, insomma un po' tutti chiedono queste immagini girate tra l'altro anche da Telemolise. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Non è un modo di dire. Ha fatto davvero il giro del mondo la nevicata record di Capracotta. Gli oltre due metri caduti in 16 ore e le immagini spettacolari registrate nel centro turistico alto molisano non potevano non richiamare l'attenzione. In effetti, al di là del primato mondiale, certificato da fonti ritenute qualificate, sono state proprio le riprese televisive e le foto a stupire telespettatori e navigatori del web. Se ne è parlato soprattutto negli Stati Uniti, a partire dalla CNN, emittente televisiva All News tra le più importanti e seguite al mondo. La notizia è stata ripresa anche dal sito internet del Time, dal Mirror e dal Washington Post, uno dei quotidiani più letti negli Stati Uniti, secondo solo al New York Times. E proprio il Washington Post ha dato ampio risalto alla notizia, mettendo tra l'altro in evidenza il servizio andato in onda nei giorni scorsi su Telemolise. Le nostre immagini sono state riprese anche dall'emittente croata Nova TV, ma questi sono solo alcuni esempi. Ancora oggi si continua a parlare ovunque della neve record di Capracotta. Tra i più sorpresi per questa incredibile visibilità mediatica c'è il sindaco Antonio Monaco, contattato dagli organi di informazione di Mezzomondo, quando si è appreso che il paese alto molisano aveva soffiato il record a Boston e Silver Lake. Quando ho visto il servizio della CNN, ha commentato il primo cittadino di Capracotta, non potevo credere ai miei occhi. Al tempo stesso Monaco ha colto l'occasione anche per proporre un gemellaggio con le due città degli Stati Uniti. Spero che non siano arrabbiati con noi per il regalo che Madre Natura ci ha fatto. Anzi, ha concluso, questa potrebbe essere l'occasione per fare un gemellaggio tra le prime della classe in materia di abbondanti nevicate. Bene, siamo in chiusura. Prima di salutarci vi facciamo vedere dei cuccioli. Eccoli qui, sono nove addirittura, sono sei maschi e tre femmine. Si trovano a Pesco Pennataro, sotto la neve manco a dirlo, e sono ad Agnone. Cercano un padrone e rischiano naturalmente invece, in caso contrario, di finire nel canile. Chiunque fosse interessato può mettersi in contatto con la nostra redazione. Abbiamo concluso il prossimo telegiornale alle 15. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie e buon pomeriggio. Grazie.